È un progetto pilota, un progetto pilota perché sia le linee guida internazionali, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma lo stesso Ministero della Salute italiana stanno progettando di mettere in atto come test di screening primario l'HPVDNA test, che è un test di biologia molecolare, al posto del PAP test. Però questo in una fascia di donne compresa dai 30 ai 64 anni, perché le donne più giovani invece devono fare il PAP test, perché altrimenti rischieremmo di avere delle positività al test di biologia molecolare che metterebbero in allarme le pazienti senza motivo, perché l'altro motivo di questo progetto pilota è quello di informare correttamente le donne. Nel senso che riscontrare una positività all'HPVDNA test non vuol dire essere malate, perché nel 60-80% dei casi l'infezione viene eliminata dal nostro sistema di difesa, dal nostro sistema immunitario e quindi la paziente non avrà nessuna patologia. Come si accede a questo servizio e se bisogna prenotarsi? Sì, il progetto prevede la possibilità di arruolare gratuitamente, nel senso che tutte le spese saranno coperte appunto dalla Lega Italiana per l'Ottocontro i Tumori, 200 donne, come dicevo dai 30 ai 64 anni, che telefonando presso appunto la sede della Lega Tumori allo 0923 873655, riceveranno una data per un appuntamento dove i ginecologi che ci collaborano volontariamente, che sono il dottore Vincenzo Bianco e la dottoressa Dora Pagarella, faranno questo prelievo, che è un prelievo sovrapponibile a quello del PAP test assolutamente indolore, e viene poi inviato al laboratorio per l'indagine di biologia molecolare. Dopo 15 giorni circa la paziente avrà il risultato. Se il test di biologia molecolare risulta negativo, non dovrà fare niente, e quindi continuerà la prevenzione che normalmente avrebbe dovuto fare. Se invece risulta positivo, sempre l'organizzazione della Lega Tumori assicurerà sia un prelievo di PAP test tradizionale, dove si andrà a capire se questa infezione del papillomavirus sta cominciando a determinare delle anomalie cellulari. Nel caso in cui il PAP test dovesse risultare positivo, è sempre prevista la possibilità di fare la colposcopia e l'eventuale biopsia con relativo esame istologico. Quindi viene coperto tutto l'iter diagnostico per queste lesioni della prevenzione del collo dell'utero.